salve a tutti e ben ritrovati per il sesto episodio livello avanzato della serie da 700 a 2400 sull'icess l'ultima volta ho raggiunto giusto il 2050 oggi andiamo verso il 2100 e ovviamente il livello inizia a essere altino quindi non lo so penso che a breve arriverà anche qualche sconfitta però forse fino a 2200 non dovrei avere grossi problemi ok allora l'avversario ha giocato e 4 un 2059 gioco la siciliana perché non voglio rischiare è vero che sto facendo più o meno sempre le solite aperture però insomma vediamo ha giocato una variante con cavallo b3 interessante esiste questa variante è poco giocata però comunque è una buona mossa non è male io opto per uno sviluppo normale qui posso giocare d5 se lui non fa cavallo c3 ecco una mossa come a3 per esempio qui non la concepisco non so bene a cosa possa servire ha avuto paura di cavallo b4 ma non era mia intenzione giocare cavallo b4 allora qui gioco subito d5 poi cavallo per d5 ora lui non può sviluppare l'alfiere altrimenti arriva alfiere mangia b2 quindi qui già sto bene insomma posizionalmente forse non sto meglio ma sto benissimo ora invece dai sto anche meglio perché mi ha lasciato proprio il pedone in b2 proprio ciò che stavo dicendo prima ora deve fare torre a2 alfiere g7 ho un pedone in più posizione tranquilla quindi sto meglio ora ok lui ha giocato torre e1 non so dove mettere l'alfiere campo chiaro quasi quasi gioco b6 alfiere b7 per cercare di attaccare potrebbe essere un'idea forse lui giocherà alfiere e4 a un certo punto non saprei ok questa mi dà un po di fastidio come mossa quindi h6 mandiamo via l'alfiere e alfiere b7 qui ho lasciato una debolezza in h7 ma non è grave ecco lui ora ha sviluppato il cavallo in d2 questo è un errore gravissimo perché c'è la casa c3 per il cavallo quindi vado a dargli il doppio e lui qui deve stare molto attento perché non può difendere la torre come fa a difenderla se viene in a1 gioco addirittura cavallo e2 scacco alfiere per donna quindi la donna dove va ecco appunto è venuto in a1 ma vabbè qui perde la donna cerchiamo di cambiare un po di pezzi ora quindi due pezzi leggeri per la donna oddio devo comunque ancora cercare di stare attento forse alfiere e5 ok sì dai devo stare ancora un po attento non so se dargli la coppia degli alfieri sì mi sa che sono costretto no ma scusate qui potevo mangiare l'alfiere no che errore vabbè vabbè pace non ho parole comunque errore gravissimo cioè questa partita era finita era finita questa partita devo fare attenzione ok dai è il momento di cambiare vorrei cambiare almeno una torre per stare più tranquillo lui ha diversi scacchi quindi questa partita non è finita ancora non posso dire che sia da abbandono perché i due alfieri sono pericolosissimi nelle blitz lui è uno che non molla non molla mai ora provo a spingere il pedone a ma se dessi la torre non sono mica così convinto forse no forse no però lui vuole entrare vuole entrare ragazzi io qui do la qualità non so se sto facendo bene però insomma è la situazione mi sembra complicata ecco come non detto se catturo lui mangia poi inizierà una serie di scacchi insomma inizia a dare noia non so se invece vengo qui proviamo rf7 il problema è che c'è 6 quindi lui ha un pedone passato non so non so se mi è convenuto farla devo mettere la torre in gioco devo attivare la torre a tutti i costi l'idea è giocare torre g8 perfetto meno male me l'ha fatta fare torre g8 ora lui dove va ok scacco eh non pensavo di rischiare così tanto qui però è ormai andata così meno male ora dovrebbe essere finita forse oppure ah la risorsa torre e4 no gioco f5 f5 meno male meno male dai ora è finita ora è posso dire che è da abbandono questa partita qui quasi quasi mangio il premove non lo so vediamo oppure di pedone vabbè dai lui non abbandona però ora c'è matto forzato più 7 buona buona questa beh niente di che in realtà perché mi ha lasciato il pedone in b2 quindi quella proprio non l'ho capita allora prossima partita spagnola con l'alfere b5 l'ho giocato subito d6 ma qui anche c3 per giocare poi d4 allora d3 per difendere arrocco torre 1 qui il piano è standard con cavallo d2 cavallo f1 cavallo g3 poi h3 e cercare di impostare un attacco sul re ovviamente l'idea è quella di giocare d4 e poi comunque di mettere l'alfere in b3 oppure in c2 per poter attaccare potete giocare questo sistema contro e5 sia adottando l'apertura spagnola che l'italiana potete rientrare tranquillamente questa mossa qui che ha giocato lui è veramente strana perché posso giocare subito a h3 il cavallo qui secondo me è posizionato un po' male perché volendo qui posso guadagnare subito un pedone non sbaglio mangio lui dovrebbe riprendere poi sacrifico e poi cavallo in presa proviamo a farla subito forse do il pedone no perché lui non ha preso di alfiere benissimo benissimo qui c'è il cavallo sotto e nel caso lui dovesse spostare il cavallo potevo appunto mangiare l'alfiere ora intanto qui c'è il pedone in presa ah così proprio potrei anche mangiare il problema è che arriva la cattura di alfiere questa è un po' pericolosa come mossa quindi gioco d4 meglio d4 non so se lui cattura devo cercare di attivare i pezzi qui vedete la torre non gioca l'alfiere non gioca quindi devo metterli in gioco semplice proviamo a prendere il pedone quindi ho un pedone in più ancora forse due pedoni in più forse lui può fare alfiere f5 esatto però io posso giocare cavallo g3 o sbaglio ma si dai cavallo g3 il problema è che c'è alfiere d6 eh alfiere d6 ragazzi si alfiere d6 è un grosso problema ho sbagliato qualcosa qui perché se qui dovessi dare la donna per torre alfiere non sono mica convinto poi della posizione è meglio tenerla quindi donna a5 unica mossa alfiere per g3 dovrebbe arrivare perché lui comunque entra in un finale con il pedone contrario ha un pedone in meno però insomma può lottare per la patta anche se come struttura pedonale sarei messo meglio io perché lui comunque ha la struttura pedonale sul lato di sul lato di donna messa male qui non ho capito perché ha giocato donna d6 subito visto che c'è comunque il pedone c7 debole cioè troppo troppo distratto l'avversario qui mi sembra io cerco di entrare in un finale con due pedoni in più a questo punto vediamo se accetta ho una bella catena pedonale allora facciamo in modo che lui cambi come posso fare forse è questo g4 no giocatore g6 cosa? addirittura ha sacrificato no 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 qui non so cosa abbia visto ma veramente non so cosa si è sognato di fare qui in questa posizione questa ora è da abbandono appena 25 mosse mi propone la rivincita no cambiamoli gli avversari o no però questa non ci voleva ha il punto di domanda non lo so vediamo 2112 questi contro di questi non si sa mai come può andare a finire ok siciliana con alfiere c4 niente di che vediamo se ora gioca c3 no non l'ha giocata allora cavallo f6 d6 arrocco vediamo se vede qui perché minaccio di guadagnare un pezzo non l'ha vista meno male allora forse sto meglio forse sto meglio anche se lui dovrebbe fare alfiere per c5 ora deve fare alfiere per c5 dai perché poi do la qualità ci sta pensando ma l'unico modo per rimanere in gioco è fare alfiere per c5 e forse ha compenso cioè forse non sto neanche meglio quindi non so se ho fatto bene dovevo calcolare dovevo calcolare va bene dai catturo di donna lui quindi dovrebbe mangiare proviamo a sviluppare l'alfiere la cosa buona è che ho la coppia degli alfieri lui ha due pedoni e la torre no qui che ha fatto scusate io veramente non li sto capendo non li sto capendo mi ha lasciato il pedone cioè mi ha lasciato riprendere un pedone ora sto veramente meglio perché il compenso c'è e non è poco il compenso c'è e non è poco vediamo cerchiamo di semplificare perché l'altera in d5 diverrebbe comunque un gran bel pezzo andrei ad attaccare g2 lui è praticamente costretto a catturarlo ok vediamo qui proviamo h6 per crearmi una via di fuga per il re ok ha giocato donna g3 ma è quasi quasi cambio proviamo a entrare in un finale non so se sto facendo bene cioè se va bene una cosa del genere perché poi arriva torre d1 forse è un po' azzardata tanto lui comunque non ha cambiato lui non ha cambiato no allora gioco donna a3 per catturare a2 lui forse gioca donna e7 su donna e7 cosa faccio? non lo so devo stare attento forse devo cambiare per forza sono forzato a cambiare no non ha fatto niente di tutto ciò allora giochiamo alfiere 6 che fa lui? torre 2? si torre 2 torre e 2 vediamo alfiere g4 infatti volevo proprio provocare f3 che è un errore gravissimo perché si è fatto dare l'infilata di alfiere ormai ha perso la donna no comunque cadono subito nei trucchetti incredibile non c'è opposizione ancora mi sembra strano ora mi aspetto commenti del tipo su chess.com una mossa del genere non la farebbero mai non lo so non so cosa dire ne abbiamo già discusso per quanto riguarda il livello di gioco e c'è un ragazzo che mise addirittura anche il link e praticamente su chess.com ci sono più giocatori ma poi il livello non è così diverso diciamo che una volta superati i 2000 i 2100 poi un 2200 su chess.com è uguale a un 2200 sull'e chess insomma fino a 2100 invece ci possono essere delle differenze di livello ok qui stiamo continuando a giocare non so bene perché però visto che lui gioca perché non continuare ora qui donna f4 cerchiamo di chiuderla oppure posso giocare h5 h4 forse h5 h4 è meglio come idea vediamo sì ok ha fatto una mossa inutile torre b2 che serve sta per prendere scacco matto insomma non ha più mosse qui lui fa g3 però la vedo veramente dura per lui esatto però l'ha vista ha visto g3 unica mossa allora donna f3 minaccio matto in 1 in caso di pedone mangia h4 avrei torre h1 scacco matto in caso di torre g2 esatto l'unica qui catturo lui deve prendere in g3 torre h1 scacco matto perfetto lui ha perso un sacco di punti ovviamente meno 79 perché ha il nickname nuovo io invece ho superato il 2070 che bello che bello sto salendo molto velocemente allora facciamo così questa forse ultima partita quindi e4 c6 karokan perfetto vai vediamo attacco dei due cavalli vediamo come se la cava lui armenia loro giocano bene loro giocano bene gli scacchi in armenia vengono insegnati nelle scuole come materia scolastica quindi giocano bene allora qui vediamo subito un trucchetto lascio la donna in presa per cercare di dare scacco matto questa è teorica ovviamente lui non si farà dare scacco matto esatto ha giocato e6 quindi io gioco donna e2 e comunque sto bene in questa posizione perché perché sto per arroccare copia degli alfieri ho più spazio lui ha l'alfiere campo chiaro che non gioca vedete batte proprio sul suo pedone quindi diciamo che è come se fosse una difesa francese perché si rientra spesso una difesa francese con questa struttura ma una difesa francese peggiorata difesa francese peggiorata qui cavallo f3 non voglio cambiare anche se poteva essere un'idea fare cavallo per f7 l'ho rifatta l'ho fatta diverse volte quella mossa e devo dire la verità mi è praticamente sempre andata bene facciamo alfiare f4 questa me l'aspettavo allora torre d1 torre d1 torre mangia d4 iniziamo a mettere le torri in gioco vedete i tempi come sono importanti praticamente le mie torri ora sono messe molto meglio delle sue quindi sicuramente qui dovrei avere vantaggio però il vantaggio va saputo anche sfruttare e questo è un bel problema come fare a sfruttare il vantaggio non si sa lui sta minacciando anche e5 a un certo punto quindi devo stare attento ai 5 anche se ora veramente questa mi piace tantissimo vediamo se gioca torre 8 no non ha giocato torre 8 ha giocato bene però perché torre 8 sarebbe stata sbagliata come mossa quindi è stato bravo niente da dire è stato bravo troviamo cavallo g5 ho paura di cavallo d5 però allora se non gioca cavallo d5 lui praticamente ha perso perché ho cavallo per e6 e alfiare per e6 poi vado a dare scacco a re e donna e praticamente la partita poi sarebbe da abbandono ma secondo me lui è un giocatore valido quindi le vede queste cose e ora sta minacciando matto in 1 per esempio minaccia matto in 1 e se gioco f3 arriva al fiare c5 non va bene no non va bene vabbè gioco cavallo f3 di nuovo che peccato però mi dispiace dover riportare il cavallo in f3 un'altra volta così eh non lo so proviamo alfiare b5 lui dove va penso in c8 sì l'unica era andare in c8 perché sono costretto a cambiare tutto qui un po' mi dispiace cambiare tutto qui volevo prendere di cavallo ma comunque poi arriva lo stesso torre torre d8 mi sa che non ho ottenuto niente da questa partita non ho ottenuto niente questa sarà difficile sarà bene anche andare veloce perché se no ho rischio di perdere vabbè allora decido comunque di prendere di cavallo non so perché ma l'ho fatta ormai torre d8 penso vero torre d8 no non ancora non ancora allora f3 che lui comunque vuole fare donna b7 è uno che non ha creato niente però è stato solido si è difeso bene quindi non ho avuto minacce purtroppo e devo dire che non mi trovo proprio a mio agio in questa posizione ora vedete al f3 c5 era nell'aria non è male come mossa quasi quasi gli lascio la colonna proviamo torre 1 eh allora ragazzi le trova tutte incredibile incredibile vabbè devo giocare a 3 bella mossa comunque al f3 d5 proviamo a giocare al f3 c2 non lo so anche se mi serviva su questa diagonale l'alfiere oddio devo stare attento per il tempo ragazzi partita tosta questa lo sapevo sapevo che gli armeni giocano bene a scacchi bella anche questa mossa mi piace sta per arrivare cavallo f4 no dove lo metto ora proviamo così oh è incredibile difende tutto riesce a vedere tutto riesce a vedere non c'ho tempo non c'ho più tempo vediamo donna e 4 46 secondi poco tempo questo gioca benissimo questo gioca benissimo no non ci credo non ci posso credere l'ha trovata infatti avevo visto proprio cavallo g4 io l'ha trovata che vogliamo fare non so se ho sbagliato qui forse ho sbagliato si sa che è sbagliata penso sia sbagliata come mossa no vado a perdere questa partita che peccato mamma mia mamma mia alfiere di 5 vediamo se la gioca alfiere di 5 non ho tempo cioè ho metà del suo tempo praticamente cosa no vabbè questo è fortissimo ragazzi questo è il signor giocatore 19 secondi no non mi posso bloccare devo giocare in primo ovvia 15 secondi sì questa forse sarebbe da abbandono però la proviamo cioè proviamo a giocarla lo stesso proviamo a giocarla lo stesso che fa qui da scacco 13 vediamo perché lui è lento lui è lento ragazzi molto lento ora ora che succede qui no che sta facendo è vinta non ci credo l'ho recuperata è vinta ragazzi è vinta che è successo che succede troppo bello spettacolo 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 va a riprendere la partita no oddio oddio cerchiamo di non perdere per il tempo qui guardate come va veloce incredibile incredibile è finito il tempo che partita che partita bellissima dai questa veramente non era male come partita anche se sono sicuro che stavo meglio ragazzi stavo meglio ma come facevo a a vincere cioè questo ha giocato benissimo vedete addirittura forse un po' peggio ma a un certo punto sono sicuro che stavo meglio vediamo quando quando avevo praticamente riposizionato bene i pezzi in realtà no sempre più o meno pari ma leggero vantaggio per lui vedete sempre leggero vantaggio per lui ma non so cosa dire eppure lui trovava proprio le mosse migliori ah ci stava cavallo per e6 bella pari la dà pari però non l'ho fatta come mai ora funzionava prima no probabilmente perché perché il cavallo si trova in g4 e quindi se lui dovesse catturare qui avrei diverse diverse opzioni quindi diversi pezzi su case chiare comunque dai 2079 direi che è andata piuttosto bene cioè zero sconfitte questa l'ho rischiata veramente tanto però è arrivata la vittoria anche qui grazie a tutti per la visione di questo video ciao e alla prossima ciao 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 ciao